ciao a tutti amici ben ritrovati ecco oggi portiamo due numeri fortunati da 3 euro richiesti da luisa ciao luisa finalmente ce l'abbiamo fatta a trovare i tuoi biglietti 12 e 28 date richiesti ok bene buona visione a tutti e niente facciamo la nostra grattata allora cominciamo dal dodici ok allora chiamiamo un po o è troppo ok bene allora prima un primo numero primo numero 43 43 43 non ce l'abbiamo segue 30 eccolo qua noi abbiamo 26 abbiamo 27 niente 26 42 eccolo poi segue 80 non ce l'abbiamo 66 eccolo qua va bene la quarta colonna sta andando bene ok manca il 77 76 che non ce l'abbiamo poi 70 70 70 niente 18 18 18 18 eccolo 53 eccolo segue 14 eccolo ultima colonna 55 niente 68 eccolo e non ci porta niente poi abbiamo 19 che non c'è 75 niente ci serviva il 77 ultimo numero 16 ah peccato ci ha fatto credere credere però non è uscito niente non abbiamo compiegato nessuna colonna guardiamo bene ma io penso il 47 non ce l'abbiamo 43 e il 77 neanche e il 31 neanche bene va bene va bene passiamo al secondo biglietto vediamo che ci dice ok secondo biglietto che sarebbe numero 28 ok ok allora primo numero 34 34 non ce l'abbiamo seguo 20 eccolo 42 ok Florida 452 i saranno 50 2 scusate 54 54 53 min technically 53 15 5465 то 33 90 sapendo 50 84 no no 30 e quello va 30 ecco lo 40 eccolo qua 40 eccolo qua aby 미 o niente 47 segue 71 niente di fatto 79 abbiamo il 78 43 che è bloccato non esce più niente 21 ecco ci resta il 78 ma con l'ultima colonna è difficile io non ho mai vinto con l'ultima colonna e vediamo un po ci resta qualche numero altro 53 ecco beh abbiamo anche un'altra possibilità con 65 e con 73 ecco adesso c'è 77 che ci serviva prima e non c'è 35 eccolo ma non ci serve 51 niente ultimo numero 37 niente mi dispiace luisa ma per quello che vedo io non è vincente due bigliettini sono questi due non vincenti mi dispiace non poterti offrire una vincita dopo un mese che stava smettando però è così e con i con i creativi no pazienza sarà per la prossima bene comunque ringrazio tutti per la visione continuate a fare le vostre le vostre richieste un bacio vi abbraccio un saluto dalla lina ciao a tutti alla prossima